Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche questa sera il nuovo appuntamento del lunedì con Check Up Obiettivo Salute. Siamo qui nella struttura di Fisioradi di Vismara, Fisioradi Medical Center, per registrare una nuova puntata che sarà interessantissima. Ho scandito proprio la parola perché intervisteremo il dottor Giovanni D'Agostino e un ottorino, la ringoiatra, che si occupa della sua materia davvero in maniera molto ampia e ci fanno comprendere come molto spesso, anche nelle più frequenti patologie che riguardano l'orecchio, l'intervento della fisioterapia può essere davvero determinante. Eccoci qua in studio col dottor Giovanni D'Agostino. Buongiorno, buonasera a tutti. È molto interessante l'argomento che affronteremo questa sera perché il dottor D'Agostino è un ottorino-laringoiatra, collabora da ormai diverso tempo con la struttura di Fisioradi e quindi è l'incarnazione del fatto che qui davvero le specialità si incrociano fra di loro perché teoricamente potrebbe venirci da dire ma cosa ha a che fare l'otorino-laringoiatra con una struttura il cui cuore è la fisioterapia? Invece dottore, non è così? No, non è così perché capita spesso di incontrare pazienti che vengono dallo torino pensando di avere una problematica prettamente legata all'orecchio, alla sfera comunque orecchie, naso e gola e in realtà a volte si scoprono sfaccettature diverse e entrano in gioco specialisti diversi, diversi specialisti medici e diversi specialisti anche dal punto di vista della terapia fisica. Quindi la correlazione è stretta. Ecco, e quindi avrete già capito che la presenza del dottor D'Agostino è tutt'altro che casuale qui a Fisioradi. Allora, cominciamo ad affrontare un po' alcuni temi interessanti che è bene approfondire con lei anche perché proprio si tratta delle più comuni patologie, delle più comuni situazioni in cui le persone si allarmano per qualcosa, hanno male all'orecchio, vengono dall'otorino la ringoiatra e magari credono subito di aver l'otite. Sì, sì, magari anzi hanno già intrapreso delle terapie per un'otite, magari impostate al telefono dal medico curante che magari non ha avuto modo di visitare il paziente e vengono dall'otorino pensando appunto di avere un'otite, quindi di trovare conferma. In realtà spesso e volentieri capita di trovare delle orecchie assolutamente normali e la problematica è di altra natura, spesso e volentieri legata per esempio all'articolazione temporomandibolare, quindi la zona qui davanti all'orecchio che può causare un dolore riflesso all'orecchio ma la cui genesi non è infettiva per cui non c'è necessità di prendere antibiotico ma magari bisogna prendere altre strade e fare altri accertamenti e altre terapie. Invece ha già detto che quando si parla di otite abbiamo a che fare con un'infezione. Sì, l'infezione può essere batterica, può essere virale, può essere micotica quindi da fungo e la differenza è ovviamente nelle terapie che poi servono. Quando invece si ha una infiammazione articolare, una problematica articolare bisogna coinvolgere per esempio altri attori, il dentista, il chirurgo maxillofacciale e a volte anche il fisioterapista o l'osteopata perché il problema di articolazione spesso è correlato anche alla postura e alla colonna vertebrale quindi si entra in altri campi. È possibile dottore che chiaramente l'otite è una malattia che può essere abbastanza ascrivibile alla stagione invernale, più che altro ai momenti freddi però capita molto spesso anche che d'estate magari persone che vanno al mare fanno il bagno, escono dall'acqua con un grande dolore all'orecchio e delle volte otite. Sì, sì perché ci possono essere delle condizioni predisponenti, ci può essere la presenza di un banalissimo tappo di cerume che crea una infezione esterna dell'orecchio che si slatentizza poi nella formazione di un'otite perché crea una situazione non normale all'interno dell'orecchio, acqua fredda, acqua sporca, onde che possono arrivare banalmente contro l'orecchio quindi anche abitudini sbagliate come può essere rimanere con le orecchie bagnate dopo i bagni eccetera così e quindi alcune situazioni possono favorire anche nella bella stagione l'insorgenza di un'otite acuta. E quindi magari il consiglio per le persone che per certi versi potrebbero essere soggette è quello per esempio prima della stagione estiva di andare a rimuovere il tappo di cerume facendo proprio l'estrazione del cerume. Capita, capita, di solito i pazienti si conoscono, sanno che hanno queste necessità allora vengono a periodi ben precisi a fare un controllo per vedere che vada tutto bene prima di andare al mare, capita. Poi c'è un'altra cosa della quale ci piaceva parlare, queste cose che si chiamano acufeni questo grande fastidio che per tanti è davvero devastante perché rovina la vita i rumori, questi fischi nelle orecchie, allora da cosa dipendono e come li possiamo affrontare? Qui mi fa una domanda ci vorrebbe forse dieci trasmissioni e chiamare altri dieci specialisti perché purtroppo i rumori delle orecchie a volte sono collegati direttamente all'orecchio quindi a delle patologie dell'orecchio ben precise, alcune anche chirurgiche quindi diciamo che vanno escluse varie patologie dell'orecchio i rumori possono essere vari, possono essere a tipo pulsazione e quindi anche di pertinenza cardiovascolare e qui il cardiologo ci può dare una mano possono essere legati anche questi a problemi di masticazione, denti del giudizio, disodontiasici quindi la valutazione dell'odonto stomatologo, del chirurgo maxillofacciale, problemi posturali a volte questi rumori rimangono così, non c'è nessuna patologia, rimane il rumore più o meno intenso più o meno fastidioso, ovviamente più fastidioso durante la notte, nel momento dell'addormentamento quando i rumori ambientali non ci sono a coprire questo rumore quindi il paziente ha il fastidio di questo rumore che sente dentro ma che non viene da fuori peraltro al di là dell'aspetto che forse quando si va a vedere un concerto è meglio non mettersi subito sotto le casse dei Moneskin però viene anche detto che l'acufene è una cosa che mette in difficoltà anche lo specialista c'è una definizione dottore no? sì e volgarmente, allora a parte il paziente che viene da noi e dice va sì vai dallo Torino, tanto ti dice che non c'è niente da fare, te lo devi tenere viene volgarmente detto la tomba dello Torino perché effettivamente spesso anche lo Torino non ha delle risposte precise da dare al paziente e gli dice deve abituarsi, deve convivere eccetera alcune volte è così quindi va anche fatto un percorso di tranquillizzazione del paziente che non c'è nulla di grave, si sono fatti gli esami per escludere altre cose a volte, io lo dico sempre al paziente ma non per illuderlo a volte così come viene e così sparisce senza terapie, senza cose particolari quindi diciamo io nonostante ci siano i quadri tomba dello Torino lascio sempre uno spiraglio di speranza esatto, non chiude del tutto l'oculo non prometto la luna ma non chiudo completamente le porte un'altra cosa, ha proprio accennato velocemente alle cure, è possibile? allora sì, le cure ci sono vari prodotti farmacologici che possano facilitare la circolazione sanguigna a livello dell'orecchio quindi per cercare di aiutare nel caso appunto dell'acufene a volte quando c'è una problematica appunto posturale banalmente, fra virgolette, banalmente escluse altre patologie che devono essere gestite quindi ernie cervicali, problemi posturali eccetera una buona fisioterapia, l'intervento dell'osteopata l'intervento del fisiatra eccetera possono aiutare a gestire queste problematiche a ridurre il sintomo acufene insomma, quindi delle terapie ci sono ci sono, importante questo così come dottore crediamo che sia importante parlare anche di un altro disturbo che è legato proprio all'apparato vestibolare alle orecchie, cioè le vertigini quando si verificano, perché? cosa ci dobbiamo fare? anche qui un'altra decina di puntate un'altra tomba esatto no, vanno escluse le cause più frequenti di vertigini di pertinenza a Torino che sono i famosi sassolini che si spostano le orecchie per cui si fanno le manovre la labirintite di solito ha un esordio talmente estremo che è difficile che arrivi qua in ambulatorio capita in ospedale di trovare il paziente in barella che non si alza perché ha la labirintite cosiddetta o neuronite vestibolare più precisamente a volte ci sono tutte quelle pseudo vertigini che possono essere di pertinenza vascolare di pertinenza anche quelle cervicoartrosiche a volte spesso capita dopo i colpi di frusta dopo gli incidenti stradali quindi anche lì escludere altri quadri patologici e lì a volte più che la terapia farmacologica che è un sintomatico quindi un'antinausea che si può dare al paziente anche lì una rieducazione vestibolare che è una terapia fisica permette al paziente di gestire queste problematiche che possono essere croniche per esempio appunto dopo il colpo di frusta dopo un incidente stradale la problematica può persistere per diverso tempo quindi dottore in conclusione l'ha già detto a più riprese ok terapie farmacologiche, caos e tanti modi per combattere questi disturbi ma sicuramente poter far conto poi su quella che è una vera e propria riabilitazione fisica anche legata proprio all'apparato vestibolare all'orecchia, all'ottorinolaringiatria in senso molto ampio può essere molto utile sì assolutamente è un valido aiuto e per fortuna che c'è per fortuna che c'è e per fortuna dottore che c'è stato lei a dirci tutte queste cose interessantissime in maniera così chiara la ringraziamo grazie a voi, grazie a tutti ringraziamo anche a voi per averci seguito anche questa sera al nostro CheckUp Obiettivo Salute e noi ci vedremo lunedì prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti